Let's go bitches! Benvenuti a questo nuovo video, è preso dal live streaming di ieri sera che ho giocato un'oretta e mezza prima di andarmene ebbene i subscriber e comunque i viewers di Twitch dello streaming mi hanno proposto di fare una sorta di challenge di utilizzare delle armi che mi consigliavano loro, in questo caso sto parlando del Weevil perché dicevano che non si vedono tante cose con il Weevil o tante nuke bene, il video che vi porto non è fatto né su Combine né su Nuketor ma è fatto bene su Aquarium ed è secondo me una bellissima nuke specialmente per i gunfight che vincerò ebbene anche per quello che succede durante la partita perché farò anche una bella gunstrick io vi saluto bitches, vi lascio al video, let's go! Nooo, nooo, vabbè ce l'hai l'altro, ce l'hai l'altro, ce lo teniamo per dopo, dai scialla madonna, la gente comunque ci si diverta, fai bisogno alla gente, madonna quanto triste comunque faccio i long shot più questo Weevil, cioè non so chi fanno tutti i boccati io paro una peppa quando lo uso, io quando lo uso paro una peppa cioè sicuramente lo fanno pure l'altro e so scarso come allora comunque lo sai quale sarà il mio obiettivo? Il mio vero obiettivo? Fare una cazzo di nuclearizzato con l'MR6, quando fai una cosa del genere poi ti senti realizzato proprio dentro nella vita, nel cuore, penso che nessuno ha mai fatto nuclearizzato qualcosa no, un dio che è che mi ha tirato l'altra... io, io eh, questo c'è la madre puttana ma lo uso io la cazzo di cosa ce l'hai? oddio che paura perché dai, guarda, non me ne accordo che finiscerà che sai come i camper hanno così tanto che quando si muovono non si muovono ce l'ho pure io l'altro di nuovo, eh ho preso su un piede no merda, tu non mi fai così io scappo, stronti no, non è vero, non scappo dimmi se lo devo ritirare hai c'è un in B? eh, se lo tiro al tiro al tiro oddio aspetta ma questo lagga come un spam di merda oh mio dio quanto ti manca a te? dai, vai, vai che lo fai c'è un altro io di hater c'è una torretta lo tiro? vieni, 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 vieni dai, ma ora c'è una torretta minaccia risolta non mi ha messo un po' come scuola, però quanto ti manca? bravo bravo no, 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 porco, due porco sono qua sotto tanto Dio mi stanno appusciando io ce l'ho un altro no, ma ciò, no, mi sono appunato vai in acqua guarda, questo qua come vuole ammazzare a tutti i costi non ammazzare a tutti non si fermerebbe davanti a niente per ammazzarmi guarda, io mi ho fanfulato no, ma che ha tirato no, ha tirato i raps ho tirato non ce l'ho, io credo io sto a fare inarrestabile non so quanto mi manca la nuclear è inarrestabile, è nuclear ah, ho già fatto la nuclear ok, io sto andando tipo a bomba cioè, sto tipo a siluro a mitragliaggente e vai, ha fatto una nuclear anche con quest'arma che era considerata di mierda io sto quasi a ben tutto se non fosse bella raps di merda che ho tirato prima come un random madonna, che palle no, ce l'hai un altro? si, si però abbiamo fatto 3k che palle braito stile no, no che palle però no, mi hanno ucciso no, non ci voglio che ti avrai tutto di me no, io ne farò mai madonna, ti ho tirato ti ho tirato 869 nuclear cioè, cosi porco, due stavo a 22 stavo da, è perché tu secondo me tu challenge troppo poco tu devi giocare più in reglas cioè, non ci devi avere paura della nuclear te la devi giocare te devi andare così vada come vada perché se ogni volta c'hai paura di andare addosso a una persona ci metti troppo tempo e non la fai cioè, mi sento tipo un maestro sensei quando dico queste cose però, fidati che è vero cioè, quando cioè, ti sa perché ti sale la strizzetta ti sale quella strizzetta che ti dice cazzo, te sto per fare la nuclear cazzo, la devo fare capito? ma sai che c'è? boh, non c'è che non sono boh, non c'è tanto, però si, poi che andavo da una parte e tipo cambiavo il spawn e stavo andando dall'altra quindi praticamente un paio